La schizofrenia è una patologia psichiatrica grave potenzialmente devastante non solo per il paziente ma anche per i suoi familiari e per chi gli è vicino e che colpisce in Italia almeno 250.000 persone. L'indagine Open Minds promossa da Janssen e condotta su 347 psichiatri in 8 paesi europei sottolinea l'esigenza di una discussione più aperta sulle opzioni terapeutiche disponibili e che permetta di instaurare la terapia più appropriata e consenta al paziente di vivere una vita piena. I numeri dicono che una buona percentuale, oltre il 90% degli psichiatri considera l'alleanza terapeutica con i pazienti come una base sulla quale costruire e ad essa attribuisce grande importanza. All'interno di questa stessa indagine emerge come fondamentalmente per gli psichiatri intervistati, gli obiettivi siano ottenere una migliore qualità di vita, una prevenzione delle ricadute e successivamente anche un buon controllo della sintomatologia. La terapia della schizofrenia è molto cambiata in questi anni per fortuna perché da un semplice controllo dei comportamenti incongrui adesso abbiamo delle terapie che riescono a controllare i sintomi della psicosi, cioè le allucinazioni, i deliri, ma anche consentono di lasciare il paziente più attivo, più socievole e quindi ci consentono di riabilitarlo, ci consentono di far sì che abbia una qualità di vita migliore e quindi soggettivamente anche si percepisca meglio. Questo è dovuto a nuovi farmaci ma anche a nuove formulazioni dei nuovi farmaci, ad esempio la possibilità di trattarli una volta al mese o addirittura una volta ogni tre mesi anziché tutti i giorni consegna al paziente anche una maggior libertà di cura oltre che una migliore stabilità clinica.